La terra trema, paura e gente in strada. Non si arresta lo sciame sismico nel parmense, la scossa più forte alle 13.06 di magnitudo 4.2 con epicentro calestano, avvertita anche a Parma città, persino ai piani bassi dei palazzi. Prima di questa la più forte era stata di magnitudo 3.4 e si era verificata alle 3.55 di questa notte con epicentro a Felino, a 6 km da Langhirano, in provincia di Parma. La profondità stimata è di circa 21 km in linea con le decine di altre scosse registrate negli ultimi due giorni, oltre un centinaio. Non si segnalano danni a persone o cose, ma le scosse sono state tantissime e molto ravvicinate, in media ogni 10-15 minuti. Per questo la circolazione ferroviaria è stata fermata in alcune zone in via precauzionale e il Comune di Parma ha creato un alert per avvisare i cittadini tramite telefonino. Lo sciame è dovuto allo spostamento dell'Appennino Emiliano Romagnolo verso nord-est, un movimento di circa 2 mm l'anno.